Le trattative di Millie Colucci, Barbara D'Urso e Matteo Bocelli. La nuova edizione di Ballando con le stelle si prepara a fare il suo atteso ritorno il 28 settembre. In questi giorni, Millie Colucci è impegnata negli ultimi preparativi per il cast VIP che si sfiderà a Colpi di Tango, Bacata e Chachachasurai 1. Il cast sembra quasi completo, con nomi come Sonia Bruganelli e Federica Pellegrini già in circolazione, ma la conduttrice non si ferma qui. È determinata a portare a bordo ancora qualche star prima della messa in onda. Secondo le indiscrezioni, Millie Carlucci sta corteggiando due personaggi di spicco, Barbara D'Urso e Matteo Bocelli, figlio del celebre Andrea Bocelli. La notizia, riportata dal settimanale Oggi, ha già fatto il giro dei social, soprattutto dopo che Millie ha dichiarato «Barbara ora è libera». Ma far parte del nostro cast implica la voglia di mettersi in gioco, lavorare ogni giorno, aprirsi e raccontarsi. Pare che Millie sia disposta a fare di tutto per avere Barbara D'Urso nel cast, inclusa la convinzione dei vertici Rai. Le trattative con Matteo Bocelli, già ballerino per una notte in una passata edizione, sono in corso da tempo. Millie Carlucci è nota per la sua tenacia e questa volta non è da meno. La conduttrice sta facendo di tutto per portare nel cast volti come Matteo Bocelli, con il quale le trattative continuano da mesi. Anche Alan Friedman è tra i nomi in lizza, mentre il braccio di ferro con i dirigenti di Viale Mazzini per arruolare Barbara D'Urso è ancora in corso. Nonostante non ci siano ancora conferme definitive, le probabilità di vedere realizzato il sogno di Millie sono alte. La presentatrice è pronta a tutto pur di portare queste stelle sul palco di Ballando con le stelle. La sua determinazione sarà premiata? Solo il tempo ce lo dirà.